Da sempre i volontari della protezione civile cercano con il loro lavoro di aiutare, di salvaguardare, ma soprattutto di informare i cittadini su quelli che possono essere i vari rischi per quello che concerne l'ambiente circostante. Sabato e domenica in piazza Cavour a Bitonto hanno istituito un gazebo per informare i cittadini appunto sul come prevenire e ridurre gli effetti di una possibile alluvione e lo hanno fatto attraverso la distribuzione di brochure informative, ma anche fermando per strada la gente e facendola avvicinare alla loro postazione. Un compito importante che ha segnato ancora una volta quanto sia strategica la vicinanza della protezione civile al singolo cittadino. Noi abbiamo intervistato Nicola Sannicandro, responsabile di piazza, che ha illustrato in maniera più approfondita qual è il lavoro che effettuano i volontari. Abbiamo aderito alla campagna nazionale, io non rischio, come è possibile verificare appunto dal banner, che praticamente mette in rilievo quelli che possono essere i rischi, nel nostro caso legato alle alluvioni che possono ovviamente accadere. È stata una campagna a livello nazionale, quindi oggi in tutte le piazze d'Italia c'è questa manifestazione, promossa appunto dalla buona norma di protezione civile, promossa dalla regione e quindi dalla protezione civile nazionale addirittura. Quindi oggi siamo qui per informare tutta la popolazione su quelli che possono essere i rischi legati appunto alle alluvioni. Quindi con l'utilizzo di alcuni mezzi che può essere la linea del tempo, quindi spiegare quella che è l'alluvione, quelli che sono i rischi, cosa succede, quello che può accadere e come eventualmente andare a ridurre al minimo i rischi. Per esempio può succedere che quando c'è un'alluvione noi prendiamo un'auto per esempio ed è questa una cosa eventualmente sbagliata o eventualmente dopo un'alluvione beviamo acqua potabile, il che potrebbe essere contaminata o per esempio dormiamo al piano terra, il che significa che ovviamente abbiamo un rischio di alluvione in casa e quindi non ci accorgiamo. Ora tutte le alluvioni sono prevedibili, pertanto la protezione civile prevede le alluvioni, a differenza invece dei terremoti e maremoti che non sono prevedibili. Noi in qualità di protezione civile cerchiamo sempre di informare la popolazione. Ora con la legge 1 del 2018 sulla protezione civile non è più la protezione civile al centro dell'istituzione ma è il cittadino al centro delle istituzioni, pertanto il cittadino che deve conoscere quelli che sono i rischi e deve evitare che queste situazioni di pericolo si presentino.